Sindaco, la nomina del dottore Locicero risponde a un'esigenza di dare operatività alla Giunta perché non ha potuto ancora riunire la Giunta dopo le dimissioni di due componenti o sul piano politico va interpretata come una sua volontà di andare avanti nonostante la presa di posizione di Italia Viva? Entrambe le cose, sicuramente la volontà di andare avanti peraltro è stato proprio ricercato un tecnico quale il dottore Locicero di competenza e di professionalità, credo in dubbia in un settore particolarmente fragile per il nostro comune abbiamo imparato, ahimè, che ci sono problemi di fragilità del nostro territorio e poter avere la competenza e la professionalità di un geologo in questo momento credo che sia di importanza fondamentale quindi ricercata proprio la professionalità nell'indubbia serietà del professionista e ovviamente ho trovato il ringrazio per l'immediata disponibilità di chi con grande spirito di servizio ha detto immediatamente ok, io sono a disposizione, se c'è da fare per la città che amo mi metto in gioco e sono immediatamente al lavoro quindi questa è stata la logica la logica di ricercare veramente il tecnico che ci consenta di andare avanti ovviamente ma di andare anche avanti con una competenza che in questo momento io credo che sia importantissima e sul piano politico lei ha cercato Italia Viva per diciamo così tra virgolette ricucire questo strappo o ha aspettato che loro dessero notizie? no, noi abbiamo avuto certamente delle interlocuzioni io non ho avuto grandi interlocuzioni politiche in questa settimana in questi ultimi giorni l'usulmano non l'ha mai sentito? no, no, sì, sì, l'ho sentito dico non ho avuto grandi interlocuzioni politiche in realtà per un motivo semplicissimo per il fatto che sono stata molto impegnata sulle cose da fare e come io ritengo e lo sto dicendo a tutti quanti, a tutte le componenti politiche che diciamo vivono nella città i tempi della politica spesso non coincidono con i tempi delle esigenze della città qualcuno ha detto negli ultimi giorni si sono dimessi due assessori si è aperta una crisi politica la città è ferma l'amministrazione è ferma non lo consento non si dica una cosa del genere perché la città e l'amministrazione è andata avanti a fatica con grande fatica perché ci sono tantissime cose da fare ci siamo ritrovati con due assessori capaci, competenti che non ci sono quindi sicuramente a fatica ma abbiamo rispettato il cronoprogramma che c'eravamo dati abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare in questi giorni questo ha comportato dal mio punto di vista un po' lasciare al margine l'interlocuzione strettamente politica i tempi della politica perché per me prima c'è il fare e poi c'è tutto il resto siccome ci sono le cose che si devono fare prima dobbiamo fare le cose il tempo altro lo dedichiamo a discutere di quello che è la connotazione di quelle che sono le componenti politiche che hanno una loro importanza fondamentale ma non possono venire prima delle esigenze della città a questo punto se Italia Viva decidesse comunque di ricucire questo strappo potrebbe essere sempre presente in giunta ma con un solo assessore perché lei immagina che il dottore Locicero voglia lasciarlo ci mancherebbe il dottore Locicero è qua non è assolutamente in discussione non è qua per coprire un posto temporaneamente è qua perché si è messo a disposizione per poter lavorare e poter fare tante cose quindi quello non c'è dubbio per quanto riguarda poi tutto il discorso politico allora lo chiarisco per l'ennesima volta è una cosa che io sto chiarendo a tutti quanti a tutte le componenti politiche in generale e in particolare con riguardo a Sciacca Democratica oggi Italia Viva Sciacca Democratica oggi Italia Viva è stata, è una componente di questa coalizione che ha costruito questo progetto politico e su questo non c'è dubbio penso che non possa essere messa in discussione in questo momento preciso cosa che noi e che io ho detto il 31 ottobro scosso in consiglio comunale pubblicamente ma che dicevo da tempo in questo momento noi dobbiamo un po' renderci conto di quella che è la situazione abbiamo una situazione in cui ci sono lasciamo perdere le emergenze ma in cui ci sono temi di importanza vitale per la città questi temi devono essere messi sul tavolo di discussione con le soluzioni ai problemi della città tutto quello che può e deve farsi nell'arco temporale dei due anni e mezzo che mancano alla fine del mandato se noi partiamo da questo possiamo discutere, ridiscutere possiamo fare quello che vogliamo non ci può essere un'interlocuzione che riguarda una posizione politica piuttosto che un'altra le famose poltrone di cui tanti parlano e continuo a dire sono degli sgabelli sgangherati e comodissimi non passa da lì il ragionamento il ragionamento deve essere altro ci sono i temi di cosa vogliamo parlare parliamo di un argomento importante per la città stiamo parlando di acqua bene siamo arrivati dobbiamo fare questa azienda speciale consortile dobbiamo fare il piano di aggiornamento delle risorse idriche dobbiamo puntare sul progetto per avere la nuova rete idrica a sciacca bene chi ci sta a portare avanti queste idee? siamo d'accordo? siamo tutti d'accordo? sì no io non sono d'accordo per me possono andare a malora tutte cose sì io sono d'accordo da lì dobbiamo ripartire solo da lì possiamo ripartire tutto il resto è un meccanismo so che io sono ovviamente espressione politica quindi non voglio che si interpreti mare quello che dico ma tutto il resto è un meccanismo autorreferenziale di chi parla a se stesso quindi se Italia Viva vuole collaborare al progetto può continuare a farlo e magari potrà essere anche presente in giunta con un proprio componente ma sicuramente sì ma non c'è una preclusione e un pregiudizio con riguardo a niente a nessuno ma questo io ripeto lo dico nessuna preclusione anche sui nomi immagino certo che no certo che no tutto va discusso ridiscusso tutto passa anche questo lo ripetisco nel rispetto di tutti e di ciascuno del ruolo di tutti e di ciascuno delle persone ultima domanda lei alla luce di questa situazione che potrebbe prefigurare anche in futuro non sappiamo cosa accadrà nei prossimi due anni una ipotesi di mozione di sfiducia se Italia Viva dovesse decidere di aggiungere i propri voti a quelli dell'opposizione non è preoccupata? e perché mai dovrei preoccuparmi? io non sono preoccupata forse sono tra i pochi che in questo momento non è preoccupato io sono stata intensamente dedicata al lavoro da fare e quindi no, non mi preoccupo perché comunque per quello che mi riguarda l'importante è che si faccia tutto il possibile per Sciacca poi tutto il resto tutti quanti ce ne faremo una ragione me compresa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti